L'emergenza sicurezza a Battipaia non accenna a finire. Sono ormai quotidiani gli episodi di criminalità che si consumano in città, tra scippi, furti, violenze. Alcune aree cittadine sono ostaggio dei delinquenti e soprattutto nelle ore notturne diventa molto pericoloso uscire di casa. La politica, tal proposito, si sta muovendo e lo fa attraverso gli organi di minoranza ai cittadini. Il consigliere Luigi da Campora, poi seguito da altri esponenti politici ed associativi, ha lanciato una petizione attraverso la quale fare voti al prefetto affinché siano messe in campo alcune iniziative. Sottutto è quella del potenziamento della caserma dei carabinieri e del commissariato di polizia con maggiori uomini. A ciò si aggiunge un'altra richiesta molto importante e c'è quella dell'impiego dell'esercito. Per garantire la sicurezza in città, dato che pare che le videocamere di sorveglianza non bastino, si deve dunque usare la forza e questo è quello che i battipaiesi chiederanno. La raccolta firme, già nei prossimi giorni, sarà possibile farla presso appositi banchetti a cui lavoreranno le varie realtà della città che mettono da parte i colori politici in alcune attività commerciali o durante appositi eventi. Noi riteniamo che dal momento che come associazione l'abbiamo chiesto più volte alla sindaca di portare questa voce importante perché abbiamo raccolto, noi viviamo sul territorio, viviamo il territorio e ovviamente se loro, se lei non si rende conto di quale sensazione, di che cosa si vive in città, soprattutto nelle ore pomeridiane e della prima serata di Badisco, parliamo di orari, non troppo in là nella notte, allora abbiamo detto fai questo, non è stato possibile, a questo punto riteniamo che la cosa più utile sia farlo chiedere ai cittadini e quindi raccogliere le firme in una petizione che avrà il nostro cappello, quello di entrambe le associazioni e di chiunque ovviamente ritiene opportuno, valido fare questa cosa, ovviamente se noi riusciamo a raccogliere un tot di firme interessanti, le manderemo al prefetto, ripeto noi non abbiamo alcuna autorità, partiamo da questo presupposto, alcuna possibilità, ma credo che Sua Eccellenza non potrà ignorare mille, duemila, tremila firme di cittadini che chiedono un interesse a questo.